Dopo la giornata complicata di sabato, anche nella mattina di domenica 31 luglio 2022 si registrano incidenti stradali a Genova e dintorni. Il primo è avvenuto poco dopo le 11.30 sull'autostrada a 26 nel tratto compreso tra Voltri e Masone in direzione Gravellona, con un'auto che è finita capovolta. Due persone sono state medicate sul posto. Ripercussioni sul traffico con coda che ha raggiunto i 5 chilometri. Pochi minuti dopo in via Buozzi in zona di Negro un motociclista è rimasto ferito ed è stato traspostato al pronto soccorso dell'ospedale Villascassi in codice giallo. E ancora poco prima delle 12 in piazza di Santa Maria a Quezzi un'anziana è stata investita e portata al San Martino in codice giallo. Sul posto anche l'automedica. Grazie. 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 Grazie.